Sono riuscita a dirgli qualcosa, cioè io ieri quando sono scesa lì sembravo un cucciolo indifeso ma in verità non sono per niente un cucciolo indifeso, quindi sono riuscita a essere me stessa, mi sta tremando la voce ancora, però piano piano, mi sono trovata bene, non lo so, parla tu. Non c'è stato nulla, non c'è stato nulla, abbiamo fatto una serata bella, lei è un vulcano di energia. Io sono stato bene anch'io, ci siamo fatti un sacco di risate, è stata una bellissima serata, la cosa che mi ferma oggi, che fermo questa conoscenza, non ho avuto quel trasporto fisico che mi ha portato, pur a darci un bacio, una carezza, una passeggiata, non è scattata, penso sia da parte mia ma anche da parte tua. Io secondo me, quello che posso vedere, che ho percepito io, sono scesa per lui perché mi piaceva caratterialmente come uomo, lo vedevo più grande di me, mi dava quel senso di protezione. Però lui si è, diciamo che si è sempre, glielo ho detto anche a lui ieri, si è sempre approcciato a donne più grandi di me, fondamentalmente magari anche più appariscenti. Grazie. Grazie. Grazie.